Bene, ragazzi e ragazze di Quintarca, viste le numerose richieste di alcuni e alcuni di voi, ho deciso di fare il corso di astrofisica che vi avevo promesso inizio anno. Saranno, penso, due o tre puntate. Questo è soltanto il trailer in cui vi mostro la bibliografia che utilizzerò per fare il corso. E un pochettino il contenuto. Saranno due o tre puntate, presumibilmente entro la metà di maggio. Le metterò sul mio canale YouTube e costituiscono un percorso che non è obbligatorio, quindi lo guarderanno soltanto quelli e quelle di voi che hanno un qualche interesse, ma che mostrano una possibile struttura pluridisciplinare che, perché no, potreste anche utilizzare eventualmente all'esame. Mi spiego. Per fare astrofisica cercheremo di mettere in campo questioni legate, ovviamente, alla fisica, un po' all'astronomia, alla matematica e, perché no, anche alla storia. E quindi avremo a disposizione un panorama di fronte a noi che veramente tocca diversi aspetti delle indicazioni nazionali di questi anni, anzi, perché parleremo anche di termodinamica, piuttosto che di meccanica, piuttosto che di elettromagnetismo e relatività e fisica quantistica, che inizia questa settimana. Per cui è veramente uno di quegli argomenti dell'astrofisica trasversali che tocca un po' tutti i rami della fisica, ma anche utilizzando strumenti della matematica e, come dicevo prima, andando a inserirsi in un contesto comunque storico. Per cui se qualcuno di voi o qualcuna di voi fosse così interessato all'astrofisica può da questo corso avere così un incipit. Ecco, il corso non è chiaramente un corso approfondito, è pensato per studenti e studentessi di una quinta liceo superiore, è fatto da me, quindi non può essere particolarmente approfondito in quanto ho abbandonato quell'area di ricerca da tanti, 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 tanti anni. Però mi fa molto piacere perché mi permette di rimettere in campo quelle che una volta erano le mie passioni professionali, va bene? Allora, alcune indicazioni di lettura e poi vi faccio uno schema di quello che sarà il corso e questo costituisce il 3er di stamattina. Ho utilizzato, ho utilizzato e sto utilizzando perché sto ancora finendo di preparare, degli appunti che avevo strutturato anni fa quando ho fatto la prima volta un corso di astrofisica in una quinta superiore, anzi in due quinta superiori, stiamo parlando di almeno dieci anni fa. Nelle mie competenze poco è cambiato, il mondo dell'astrofisica però si è arricchito nel frattempo, per cui faremo un salto anche in alcune questioni un po' più recenti. Il libro che sto utilizzando, che ho acquistato tre anni fa e che nel frattempo appunto mi ha aperto molto gli occhi su scenari fattibili in un liceo, perché questo è il punto, ok? Non ho voglia di fare un corso in cui vi racconto una storiella. Vorrei darvi gli strumenti con questo corso per fare proprio delle analisi, dei modelli, dei calcoli all'interno, ripeto, di una competenza, di uno studente o di una studentessa liceale, ma che vi portino poi a trovare dei risultati, ok? Perché no anche utilizzando un programma, una simulazione al computer, va bene? Su questo poi ne parleremo. Allora, un libro che veramente per me è stato importante in questi anni è questo libro di Charles Keaton, Charles Keaton, Principles of Astrophysics, Using Gravity and Stellar Physics to Explore the Cosmos. Ed è la Springer. Tra l'altro, se vi affrettate, la Springer in questo periodo, per la quarantena e il coronavirus, sta dando alcuni libri gratuitamente in pdf sul suo sito. Quindi se cercate questo libro, in questo momento trovate il pdf. Ok? È un libro universitario, ma molti dei calcoli che richiede la struttura di questo testo sono fattibili in una quinta. Ci sono alcune derivate, alcune integrali, alcune equazioni differenziali molto semplici. seguirò alcuni aspetti di questo libro, che è molto bello perché non entra eccessivamente nei dettagli, ma fa vedere gli ordini di grandezza dei fenomeni, che è una cosa importante. Questo mi ha riportato poi alla mente un libro che ho recuperato dalla cantina, dove era finito, e l'ho riportato qua nella mia libreria dello studio. Questo c'è il Nikier, non so come si pronuncia, è un autore russo, credo. Questo è un libro vecchissimo, non so neanche se si può trovare, Basics of Cosmic Structures, Editions Frontiers. È un libro meraviglioso, che ho usato da studente universitario, pensate un po', per farlo insegnare proprio l'astrofisica, quando ho iniziato a appassionarmi dell'argomento, e in pratica, costruisce tutta una serie di considerazioni, solo con gli ordini di grandezza. E quindi utilizzerò anche alcune indicazioni, che vengono dalla notte dei tempi, da parte di questo libro. Sempre dalla notte dei tempi, anche questo libro, io penso che l'ho riusciata a trovare, probabilmente in qualche sito di libri usati, questo non sono sicuro, ma potreste provare. È un libro molto datato, Alberto Masani, Astrofisica, mi piace farvelo vedere, Editori Uniti, perché questi erano i libri, di quando io ero studente, che trovavo nelle bancarelle. Ancora si trovano, ma è molto più raro. E anche questo è un bel libro, perché fa dei modelli semplici di struttura stellare. Un po' più recente, ho preso l'anno scorso questo, della Princeton University Press, Astrophysics in a nutshell. Astrofisica in un guscio di noce, citando Shakespeare. Ed è di questo autore, Dan Mautz, è un astrofisico. Anche questo è un libro interessante, perché pur non scendendo in tanti dettagli, quindi molto comodo per me, permette di fare alcune considerazioni. Quindi sto usando anche questo. E vi dicevo, per entrare un pochettino, un pochettino più in questioni moderne, vi avevo già fatto vedere in passato, Astrophysics of Planet Formation, di Armitage, non so se si pronuncia in questo modo, della Cambridge University, per vedere come si è costituito il nostro sistema solare, la struttura moderna del sistema solare. Questo è un testo complicato, che sto studiando con molta fatica, ma mi serve più che altro per ispirazione, per determinare alcuni ordini di grandezza nella struttura del corso. Questi sono più o meno i testi che utilizzerò. Per quanto riguarda, allora, la struttura del corso, l'astrofisica spiegata al mio gatto, il corso sarà essenzialmente diviso in due parti. La prima parte sarà dedicata alla forza di gravità. Cioè, partiremo dalla forza di gravità newtoniana e cercheremo di rivedere insieme, perché per molti di voi sarà un ripasso, i risultati che si possono ottenere partendo semplicemente da F uguale gmm fratto r quadro. Da questa semplice espressione della forza di gravità newtoniana, vi farò vedere quello che si chiama il teorema del viriale e un po' di meccanica celeste. Soprattutto, attraverso questa formula, vorrei rivedere con voi alcune cose che forse in terza vi ricorderete, ma che magari vi sono dimenticate, un po' di meccanica celeste. La seconda parte, invece, del corso sarà legata essenzialmente agli oggetti autogravitanti, quindi strutture, chiamiamole poiché oggetti, strutture autogravitanti. Con questo termine intendo strutture la cui natura è legata essenzialmente alla forza di gravità. Quindi non una penna, una rana, un cacciavite, ma un pianeta, una stella o quant'altro. Quindi parlerò essenzialmente di pianeti, atmosfera, temperatura di un pianeta, come si può immaginare che si costituisca un pianeta e differenza, per esempio, tra i pianeti rocciosi e i pianeti gassosi. Parleremo anche di esopianeti e se riesco anche di come oggi si possono scoprire gli esopianeti e soprattutto di strutture stellari, quindi stelle. Cosa sto scrivendo? Stelle. Che sarà l'argomento principale. L'idea è di arrivare fino a un piccolo modello molto semplificato, ma che dà risultati interessanti di struttura stellare. Quindi qui dentro poi ci sarà la termodinamica, la fisica quantistica, dovremmo parlare di fusione nucleare e di evoluzione essenzialmente di una stella. Questo è più o meno la struttura del corso, quindi ci concentreremo su un ripasso della forza di gravità newtoniana con un po' di meccanica celeste. Questa prima parte dovrebbe durare una lezione e poi due lezioni sulle strutture autogravitanti. Mi piacerebbe anche fare qualche cosa legato a strutture un po' più grandi, tipo galassie e addirittura l'universo, quindi un po' di cosmologia, non sono sicurissimo di avere tempo, perché nel frattempo devo fare anche le lezioni normali, dobbiamo fare tutta la fisica quantistica, e mi avete chiesto anche altri approfondimenti di altra natura, per cui penso che durerà appunto tre incontri. Bene, per questo trailer direi che è tutto. Non vedo l'ora di registrare queste lezioni, sto finendo di appuntarmi le ultime cose e cercherò di mostrarvi, come ho detto in precedenza, proprio i calcoli, quindi non mi limiterò a una storiella, nella speranza che qualcuno, qualcuno di voi, poi si metta lì con un foglio e penna, e perché no magari anche un computer, una calcolatrice, e rifaccia calcoli. E lo scopo di tutto questo è mostrarvi come, con competenze di una quinta liceo scientifico, si possono fare molte, molte cose, interessanti. Vabbè, vi saluto, spero come sempre che state tutti e tutte bene, e buon pomeriggio e ci vediamo per le lezioni, direi, stasera. Arrivederci.